benvenuti a Video Backlight, oggi parliamo di giustizia, concludiamo il nostro ciclo sulla riforma della giustizia, avevamo già intervistato il senatore Alfredo Bazzoli, membro della seconda commissione giustizia, l'onorevole Simonetta Matone, seconda commissione giustizia della Camera, oggi concludiamo il ciclo con il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, dottor Raffaele Cantone, benvenuto. Grazie, grazie il limito e buonasera a lei. Allora, noi abbiamo semplicemente chiesto, riguardo alla riforma che è approdata in Senato, avevamo chiesto semplicemente in commento sulle intercettazioni, sull'abuso d'ufficio, sul traffico di influenza sulla riforma nella sua interezza. Partiamo con l'abuso d'ufficio. L'abuso d'ufficio è un reato che esiste in tutti gli stati del mondo, perché è un reato che serve a evitare che i pubblici ufficiali, i titolari del potere, possano gestire il potere con logiche che assurano assolutamente nell'interesse personale, cioè a proprio vantaggio, a vantaggio di soggetti specifici o in danno di altri soggetti. Eliminare il reato di abuso d'ufficio significherebbe sostanzialmente ridurre la possibilità di operare un controllo di legittimità sull'azione della pubblica amministrazione. Per esempio sarebbe assolutamente legittimo che un soggetto pubblico esercitasse con l'eliminazione d'abuso d'ufficio, compisse un atto semplicemente al fine di danneggiare un suo rivale. Questo è evidente che contrasta con principi costituzionali e a partire dal principio costituzionale il buon andamento della pubblica amministrazione. Quindi io credo che sia difficile escludere che in un ordinamento, ovviamente soprattutto in un ordinamento democratico, in cui la pubblica amministrazione è tenuta a orientare la propria azione secondo certi criteri, non possa esserci un abuso d'ufficio. Per il resto tutte le convenzioni internazionali che riguardano i reati contro la pubblica amministrazione, la convenzione di merita contro la corruzione, la convenzione del Consiglio d'Europa, espressamente prevedono che tutte le legislazioni dei paesi aderenti prevedano nel loro ordinamento una fattispecie di abuso di potere. Ciò detto, è evidente che c'era un problema di formulazione della fattispecie nel nostro ordinamento che aveva creato oggettivamente dei problemi e delle tensioni, nel senso che aveva soprattutto nella formulazione precedente, aveva una indicazione molto elastico nella sua configurazione e questo rischiava aperture di procedimenti che potevano essere in qualche modo non fuoriere poi i grandi risultati. Io credo che l'eliminazione dell'abuso d'ufficio però sia di per sé un errore clamoroso. Sarebbe stato probabilmente utile rivedere la fattispecie e anche meglio tassaturizzarla, ma eliminare significa abbassare il livello di controllo sulla legalità dell'azione amministrativa e significa di fatto rendere legittime possibili azioni oggettivamente illecite nell'operato della pubblica amministrazione. Questo non è un vantaggio né nei confronti dei cittadini né nei confronti dei pubblici amministratori. Per quanto riguarda invece le intercettazioni è un provvedimento assai dibattuto? Le intercettazioni rappresentano uno strumento assolutamente indispensabile per le indagini. Io credo che nel 90% delle indagini, quelle anche più complicate, è difficile riuscire per esempio a risolvere un'indagine che riguarda un omicidio a meno che non si interviene nella quasi flagranza o una rapina o persino i furti o per non dire spaccio di droga, le associazioni mafiose senza intercettazione. Il tema riguarda soprattutto la tutela dei soggetti che in qualche modo possono essere coinvolti nella tutela soprattutto della loro riservatizia. In questo senso io credo che la riforma del 2017-2020 aveva stabilito una serie di paletti e anche tenendo presente quello che si era stato detto al Garante e la Praia si stava funzionando bene. Io credo che altri interventi non fossero necessari. Ciò detto, la proposta di riforma del governo nordio incide poco sulla possibilità di svolgere intercettazioni e quindi in questo senso io credo vada considerata positivamente. Prevede una serie di limiti ulteriori alla divulgabilità delle intercettazioni che possono incidere soprattutto sul diritto alla libertà di stampa. Libertà di stampa che significa anche libertà di poter conoscere le indagini giudiziarie, di poter anche criticare le indagini giudiziarie. Io credo che il ruolo della stampa come watchdog, come cane da guarda di chiunque esercito il potere sia funzionale e determinante in ogni democrazia. Ridurre gli spazi della libertà di stampa rischia di rappresentare un arretramento sui principi di libertà, i conti tipici di una democrazia. Concludiamo con il traffico di influenze? Il traffico di influenze illecite è stato un reato recente nel nostro ordinamento, noi non l'avevamo, è stato introdotto dalla legge Severino nel 2012 e modificato dalla spazza a prodotti. Si tratta di un reato che serve a punire l'attività dei cosiddetti faccendieri, cioè di coloro che non essendo pubblici ufficiali o non necessariamente essendo pubblici ufficiali fanno i faccendieri, nel senso si occupano di intervenire nei confronti di altri pubblici ufficiali, per esempio con raccomandazioni, con interventi, con segnalazioni, facendolo ovviamente in cambio di inutilità. Io credo che si tratti di un'attività molto grave dal punto di vista anche degli effetti negativi sull'azione della pubblica amministrazione che finisce per certi versi per interferire invece con quelle attività logistiche assolutamente lecite che vengono poste in essere invece alla luce del giorno in tutti i paesi del mondo. La presenza, la necessità di prevedere una fattispecie di traffico di influenze era una scelta neanche libera del nostro paese, perché è prevista da una serie di convenzioni, anche in questo caso la Convenzione di Merita, ma soprattutto la Convenzione del Consiglio d'Europa che ci avevano imposto l'introduzione di questo reato. La riforma Nordio riduce significativamente la possibilità del traffico di influenze, non lo elimina, ma dà una definizione della mediazione illecita, qui rischeremmo di scendere troppo nel tecnicismo, che richiede una serie di presupposti che di fatto la rendono assolutamente difficile da verificarsi in pratica. Il rischio vero come è stato per esempio evidenziato da un magistrato importante che se ne è occupato in tante occasioni, il collega Ielo della Procura di Roma, è che di fatto per esempio quella definizione di mediazione illecita potrebbe per esempio rendere legittimo un soggetto che si faccia pagare una ingente somma di denaro per fare la raccomandazione in un concorso e leggendosi un amico, perché di fatto questo comportamento così come è stato definito dalla riforma Nordio sarebbe legittimo. Io credo che questo rischia di essere un arretramento soprattutto in quelle situazioni ambigue che riguardano alcuni rapporti tra la zona grigia alla pubblica amministrazione e rischia di farci arretrare significativamente sul piano e sul contrasto alla corruzione, ambito nel quale invece negli ultimi anni avevamo ottenuto grandi risultati. Basterebbe in questo senso verificare come l'Italia è migliorata nelle classifiche internazionali a cominciare da quella di Transparency International. Io eviterei di fare un passo indietro perché l'Italia sotto questo profilo ha recuperato moltissimo dal punto di vista dell'immagine, non è più indicata all'estero come il paese della mafia e della corruzione, ma spesso come il paese dell'antimafia e dell'anticorruzione. Quindi sarei molto cauto nel mettere in discussione quelli che sono presidi indispensabili per la lotta alla corruzione. Per quanto riguarda, concludendo, l'intera riforma, ricordiamo anche l'informazione di garanzia, la custodia cautelare in carcere, c'è qualcosa che la convince o non la convince? Non mi convince moltissimo, soprattutto devo dire che ci sono alcune indicazioni della riforma che sono oggettivamente preoccupanti, per esempio l'obbligo di interrogatorio quando si procede per una serie di reati nei confronti di soggetti prima di emettere la misura cautelare. Questa è una di quelle classiche situazioni che rischia di creare un inquinamento probatorio rilevantissimo, ma anche di consentire la fuga di un imputato. Così come anche la presenza della previsione è la possibilità che siano tre giudici a emettere una misura cautelare piuttosto... Qualcuno si chiede dove sono tutti questi giudici? Non solo dove sono questi giudici, ma vorrei che qualcuno avvenisse in tribunali particolarmente piccoli o meglio piccoli, nei quali di fatto questo sistema rischerebbe di paralizzare. Allora io mi chiedo, noi facciamo tante volte tante discussioni su quelli che sono i temi della sicurezza dei cittadini, che credo che non nulla hanno a che vedere poi con le garanzie, perché anche i cittadini che vogliono sicurezza vogliono in qualche modo garanzie. Questi meccanismi rischiano di rendere il contrasto alla criminalità molto più difficile e mi chiedo se questa sia una scelta corretta. Devo dire a vantaggio della legge Nordio che la proposta previde che questa parte dei giudici entri in vigore solo dopo che ci sia stato un significativo aumento dell'organico della magistratura. Il problema è che i tempi per l'aumento dell'organico della magistratura non si sono affatto brevi, ci vorranno moltissimo tempo, quindi rischia di essere una parte della riforma sulla carta. Non applicate. Allora questa parte della riforma non venga emessa. Ben vengano tutte le disposizioni a favore della garanzia degli imputati, perché io sono convintissimo che l'imputato deve essere garantito in tutti i suoi diritti. Però questi meccanismi mi sembrano poco interessati alla garanzia e finiscono per essere semplicemente delle sovrastrutture che rendono molto più difficile l'esercizio dei poteri giurisdizionali. Bene, noi abbiamo parlato della riforma della giustizia, ne abbiamo parlato con il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, il dottor Raffaele Cantone, che ringraziamo ancora. Buonasera a lei. La nostra sigla, 10 secondi.